Ora la pagina sportiva, iniziamo con le notizie di calcio-mercato che riguardano il Pescara. Tante le trattative in corso e anche sul punto di essere chiuse, sia in entrata che in uscita. Ma andiamo con ordine. La maxi-trattativa con la Ternana è andata a buon fine. Fredrik Sorensen passa infatti al club Umbro, mentre arrivano Paolo Frascatore, 29enne laterale sinistro, che giocò nel Delfino per sei mesi nella stagione 2013-2014, e Guido Marilungo, in questo caso è un prestito secco, 32enne attaccante, ex Virtus Lanciano. Trattativa in corso con il Genoa, invece, per l'esterno offensivo Claudio Mikoski, classe 99, ex calciatore dell'Avellino, giovane molto interessante, che già l'anno scorso era stato accostato proprio alla formazione bianca-azzurra. Fronte cessioni, è imminente quella a titolo definitivo di Vincenzo Fiorillo alla Salernitana. Per lui sarebbe pronto un contratto di 4 anni. Per la sua successione il Pescara pensa a Matteo Pisseri, 29 anni, ne ho promosso in Serie B con l'Alessandria, ma anche a Riccardo Gagno, 24enne del Modena, e a Mattia De Favero, 23 anni di proprietà della Juventus, reduce da un'annata sfortunata con il Delfino a causa dell'infortunio alla spalla, rimediato nella gara di Coppa Italia contro il notaresco. Infine, oggi la società ha ufficializzato gli ingaggi di Eugenio Dulsi e Franco Ferrari, che peraltro già si allenavano con il gruppo squadra.